Anche quest'anno la diocesi di Fano, Fossombrone, Cagliepergola ha scelto la chiesa di San Giuseppe al Porto per le 24 ore del perdono. Un momento molto importante per tutta la diocesi, per la nostra città di Fano, proprio perché vuole essere una molla per ritrovare un po' una propria forza interiore per affrontare i problemi della vita che sono così complessi. Il Papa Francesco con queste 24 ore di perdono vuole ricollegare le nostre problematiche con il cuore di Dio. Cioè dire, se noi reinestiamo il nostro cuore con il cuore di Dio, alla fine finiremo per ammazzarci tutti. Cioè Dio è colui che invece ti porta a una comprensione diversa della vita, delle persone, delle situazioni. E lo sguardo misericordioso, compassionevole di Dio deve diventare lo sguardo compassionevole e misericordioso di ogni credente della comunità cristiana, della Chiesa intera. Quando inizierà questo momento di preghiera? Il Papa ha voluto che fosse nel venerdì precedente la quarta domenica di Quaresima e quindi domani sera alle ore 18 e 30 avremo i Vespri con l'esposizione del Santissimo Sacramento e dopo inizieranno le confessioni individuali che si protrarranno fino alle 2 della notte. Poi faremo una pausa, una sospensione e riprenderemo l'apertura della Chiesa alle 6 di sabato mattina e questo in continuità fino alle 6 di sabato sera.